Ciao, ricordati di iscriverti al canale e mettere mi piace grazie. Guarda fino alla fine questo video se hai più di 50 anni perché ti darà consigli importantissimi per la tua salute. Negli ultimi anni, il concetto di medicina di precisione ha guadagnato sempre più attenzione e quest'anno il Ministero della Salute ha introdotto nuove raccomandazioni basate sul target anche per le vaccinazioni antinfluenzali. Nella sua circolare ordinaria sulla prevenzione dell'influenza per la stagione 2023-2024, pubblicata il 21 aprile scorso. La novità principale nel panorama italiano è rappresentata dalla raccomandazione di somministrare vaccini sempre più adatti e pensati specificamente per la persona destinataria. Nella circolare, i vaccini antinfluenzali attualmente disponibili in Italia vengono classificati come S somministrabile e R raccomandato tra i somministrabili. In particolare per i soggetti di età pari o superiore a 50 anni, vengono indicati come R raccomandati due tipi specifici di vaccino antinfluenzale. Questa nuova direttiva è stata evidenziata dall'Osservatorio Influenza, con il suo direttore scientifico Fabrizio Pregliasco. Pregliasco sottolinea che la vaccinazione antinfluenzale è un'opportunità per tutti, ma diventa una raccomandazione particolarmente stringente per le persone più fragili e anziane. Nel corso degli anni sono stati sviluppati diversi vaccini per massimizzare l'efficacia, soprattutto per i soggetti con una risposta immunitaria ridotta. Il direttore scientifico afferma che avere indicazioni su vaccini più adatti per diverse fasce di età è un vantaggio significativo per la popolazione, mirando a raggiungere gli obiettivi di copertura. Entrambi i vaccini raccomandati hanno dimostrato una maggiore capacità protettiva nelle persone con una riduzione della capacità immunitaria legata all'età. Pertanto, è fondamentale vaccinarsi, ma è altrettanto importante scegliere il vaccino più appropriato per massimizzare i risultati di questa fondamentale attività di prevenzione. Questo lo si fa affidandosi al proprio dottore. L'osservatorio Influenza sottolinea che il confronto con il medico di medicina generale rimane essenziale per fornire la risposta più idonea, considerando anche la storia clinica del singolo individuo.